Un docente svestito che chiede ad alcuni studenti di colpirlo. La scena sarebbe stata ripresa da un allievo in una scuola media di Bologna e finita nello smartphone di una studentessa della classe. Successivamente la madre della ragazza ha visto il filmato con il prof a lezione in atteggiamenti insoliti, quindi ha presentato formale denuncia ai carabinieri. A quel punto il cellulare della figlia è stato consegnato ai tecnici per le analisi di rito. La ragazza è stata ascoltata e anche se vi sono degli aspetti da chiarire è partita un'indagine coordinata dalla procura. Da parte di chi indaga c'è il massimo riservo a tutela dei minorenni coinvolti e vista la delicatezza della fase investigativa che sarebbe embrionale, scrive l'Ansa. Comunque, continua l'agenzia di stampa, si sta lavorando per ricostruire se ci siano stati abusi nei confronti dei minorenni sui 13 anni e il contesto in cui è stato girato. Le accuse che si stanno venendo a determinare nei confronti dell'insegnante risultano davvero gravi. Se confermate, per il docente potrebbe scattare un procedimento disciplinare, probabilmente anche la sospensione del servizio e la verifica della compatibilità con l'insegnamento, oltre che le procedure giudiziarie di rito, da carattere penale a giudiziario. Grazie. 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 Grazie.